E' stata inoltrata, chiediamo ai commercianti come sta andando e soprattutto quali sono i problemi del territorio da risolvere. Lello Sgambati. Veramente noi stiamo vedendo proprio un'assenza totale per quello che riguarda l'amministrazione locale perché non c'è un piano traffico, non ci sono i divieti, specialmente su questa strada dove io sono ubicato. Ormai è diventata l'autostrada perché non c'è più un divieto, non c'è niente. Questo è anche dovuto a quella forzosa cosa di dover fare per forza questi lavori pubblici che oltretutto sono riversati in determinate zone dove sono successe alcuni episodi sgradevoli che non dovrebbero succedere. Mi dispiace dirlo ma questa comunque è la mancanza di programmazione che si fa anno per anno come si fa in tutti i paesi del mondo. Noi non sappiamo quello che facciamo domani perché non l'abbiamo programmato. E questo è quello che risentiamo di più nei commercianti anche in termini di servizi. Vediamo giù al porto la gente che arriva che non si può riparare sotto una tentina per quanto riguarda gli imbarchi, la riscafe e così via. Abbiamo uno spettacolo di quel pontile che è rimasto lì, colpa della regione. Cioè si passa la palla da l'una all'altra. Cioè qua veramente poi a noi è capitata questa spada di Damolo che purtroppo io ritengo a chi vuole salvare la patria. Forse forse io l'ho sempre detto anche prima che iniziassero i lavori pubblici di assumersi la responsabilità politica di fare affossare l'economia locale. E questi signori oggi ne rispondono perché la realtà è sotto gli occhi di tutti. Perché le difficoltà non ce l'hanno solo i commerciali, ce l'hanno anche gli abbergatori. Perché i numeri sono scesi. A che che se ne dicano siamo pieni o non siamo pieni. Andiamo a vedere di che cosa siamo pieni.